Gian Domenico Partipillo da Coiglia delle Fonti per presentare il suo primo e ovviamente ultimo libro che tra un po' scopriremo però prima ovviamente è doveroso far conoscere meglio al nostro pubblico di chi si tratta e lascio la parola al nostro ospite. Sì sì buonasera a tutti e grazie per questa opportunità. Io nasco come matematico, come una formazione matematica sebbene negli ultimi anni, gli ultimi dieci anni anche per una serie di vicissitudini personali mi sono approcciato professionalmente al mondo dell'olistica e ultimamente ha addentrato sempre di più anche per vie traverse legate alle questioni personali allo studio della vitamina C che è appunto l'oggetto e il soggetto principale del mio libro. E scopriamo il titolo? Logicamente C. L'idea quindi di approfondire questo tipo di argomento quando è nata e perché? È nata all'incirca un paio di anni fa le motivazioni sottostanti sono molteplici. La principale di questa è legata a cercare di porre fine o meglio arrestare un'emorragia di imprecisioni che vengono continuamente ancora oggi prodotte ai danni della vitamina C. Noi abbiamo una immagine della vitamina C che è molto ristretta rispetto alle sue effettive potenzialità. Questo circolo di ambiguità, mistificazioni, pregiudizi che si è plasmato progressivamente sui danni ha creato una serie di confondimenti, una serie di ambiguità che hanno depotenziato le sue enormi potenzialità che vanno ben oltre il concetto base di vitamina. Il metodo utilizzato per la scrittura di questo libro? Poi approfondiremo meglio il contenuto. Ma sostanzialmente è un approccio matematico. Ho cercato di sfruttare la mia passione per la matematica, la statistica, soprattutto implementando quello che secondo me con tutta umiltà a volte manca un po' nelle questioni che sono extra matematiche come possono essere quelle della medicina, ovvero il rigore. Quindi cercando di produrre delle affermazioni tutte quante bibliografate, linkate con riferimenti adeguati bibliografici spesso di alta qualità e che fossero in un certo senso improntate alla precisione più assoluta. Questo è un doppio scopo. Uno quello di tra virgolette proteggermi in quanto non essendo medico è necessario che io mi costruisca un'alternativa di credibilità e due quello appunto di porre fine diciamo a questo rannuvolamento confusionale che continua tutt'oggi a permeare sulla vitamina C. Al fine di chiarire degli aspetti che possono essere influenti per tutti noi dalla vita quotidiana ai pazienti ricoverati nelle trepie intensive. Sono tanti miti che girano attorno alla vitamina C. Ne vogliamo sfatare qualcuno? Sì ce ne sono tantissimi. Ve ne propongo due. Il primo è quello che concerne i suoi dosaggi. Più di un grammo di vitamina C non è assorbito dall'organismo. Questo è falso. Io poi arrivo anche attraverso una piccola descrizione matematica a sfatarlo e inquadrarlo nella cornice più congrua. E l'altro è legato alla sua tossicità cioè ai suoi presunti potenziali effetti collaterali. Il più temuto dei quali è il danno renale. Quindi arrivo poi attraverso la lettratura scientifica a fare un lavoro di giornalismo scientifico diciamo inquadrando nella maniera più opportuna tale evenienza che esiste ma è commisurata in una misura notevolmente inferiore rispetto a quanto decantato dai media o dai giornali anche a livello scientifico. La vitamina C nel campo medico e come potrà progredire anche in futuro? Esatto. Questo è il punto. L'altro punto. Abbiamo una piattaforma di dati preliminari esaltante per quanto riguarda vari campi di applicazione dei più semplici che potrebbero essere quelli legati al sostentamento del sistema immunitario ai più complessi addirittura come quello della terapia del cancro. Non so quanti di voi sappiano che la vitamina C ha dato prova in studi preliminari una voluminosa e variegata prova preliminare di essere un potentissimo farmaco antitumorale per di più con una prerogativa che è praticamente unica cioè non avere nessun tipo di tossicità. Chiaramente ciò non basta per dimostrare che la vitamina C ha un effetto clinico significativo sull'uomo. Servono studi sull'uomo di ampia qualità quelli che vengono definiti di fase 3 o multicentrici che tuttavia e poi arrivo a fornire anche una documentazione fattiva stentano a progredire. Quasi ci fosse una interruzione investigativa francamente poco enigmatica se teniamo conto che parliamo di una sostanza economica che non presenta rilevanti effetti collaterali che svolge tutta una serie di funzioni parallele a quelle che potrebbero essere predominanti. La vitamina C sappiamo benissimo che è contenuta nella frutta, fragole, arance eccetera però ci sono anche gli integratori. Esatto ma soprattutto c'è anche una versione della vitamina C che potrebbe essere quella ad esempio più utile nella terapia del cancro o anche nelle rianimazioni nei casi dei pazienti critici che è la via endovenosa, una via che praticamente è abbastanza sconosciuta perché rappresenta un modo inconsueto, inusuale di introdurre un sostanzialmente nutriente nell'organismo. Tuttavia quando la vitamina C viene inettata in vena diventa un farmaco vero e proprio con delle potenzialità molto superiori rispetto a quelle che potrebbero essere garantite dall'alimentazione, ad una semplice integrazione di integratori da banco mantenendo tuttavia quella tossicità praticamente nulla che è tipica della frutta e della verdura. Ci sono periodi specifici dove andare a fare uso soprattutto di vitamina C con la frutta o con integratori oppure in qualsiasi momento dell'anno? Allora partiamo dal presupposto che la vitamina C è come tutte le vitamine una sostanza essenziale della sopravvivenza, la cui carenza determina gravi compromissioni al nostro organismo fino a una malattia mortale, per fortuna abbastanza inconsueta attualmente, di nome scorbuto. Quindi è chiaro che andrebbe assunta in una certa misura tutto l'anno. Ovvio ci sono degli episodi che possono determinare un aumento del suo fabbisogno. Possono essere episodi infettivi, stress di varia natura, traumi, tutto ciò che in qualche modo può compromettere il nostro regolare excursus fisiologico. Ora veniamo a quello che è il contenuto di questo primo libro. C'è una parte che ha dato maggior filo da torcere all'autore? La parte tecnica. La parte tecnica in quanto non essendo medico né biochimico né biologo mi ha costretto a rimettermi sui libri e studiare quello che è un po' differente dai miei studi precedenti che riguardavano la matematica. Parte tecnica che potrebbe essere fuorviante da una certa angolazione perché è un libro sostanzialmente scientifico ma divulgativo. Tuttavia la tecnica è propedeutica poi a mostrare gli obiettivi che sono insiti nel libro stesso, che sono quelli appunto di fare chiarezza. Senza un'adeguata descrizione tecnica noi non possiamo andare a mettere i puntini al loro posto giusto e quindi fornire una visione d'insieme che possa fornire al lettore un'immagine chiara e soprattutto non confusa della vitamina C. Qual è il messaggio che l'autore vuole dare al lettore di questo libro? I messaggi sono molteplici e variano in funzione del lettore. Al lettore diciamo non specialistico della popolazione comune sono quelli legati sostanzialmente all'insinuare un dubbio che l'alimentazione potrebbe non essere sufficiente a fornire le quantità adeguate di vitamina C. Questo è abbastanza evidente se poi ci rapportiamo a quello che succede negli animali. Questo potrebbe essere un piccolo stimolo. C'è un altro spunto che è collegato al modo della ricerca scientifica e sostanzialmente ai clinici. Settore nel quale la vitamina C fatica ad essere inquadrata nella sua versione farmacologica. Si fatica a inquadrare la vitamina C come una sostanza da misurare nel sangue per valutare eventuali stati carenziali. Questo perché si parte dal teorema sbagliato che un'alimentazione varia, sana ed equilibrata sia sufficiente in tutte le condizioni a fornire quantità adeguate di vitamina C. A quale pubblico è soprattutto indirizzato questo libro? Teoricamente a tutto il pubblico. Ripeto, ci sono scopi differenti. Il pubblico prevalente è scientifico e sostanzialmente cerca di stimolare quella parte di comunità scientifica che è disposta ad ascoltare, a rimettere in gioco determinate concezioni, al fine ultimo di contrastare quel fenomeno della privatizzazione della ricerca scientifica che non andrà mai poi mai, ed è ovvio che sia così e anche condivisibile, nella direzione della continuatività di studi, di quegli studi che possano in qualche modo promuovere il farmaco, ratificarlo e promuoverlo nella pratica clinica. Quindi cercare uno stimolo affinché le istituzioni e quanti altri possano sostituirsi alle case farmaceutiche e a chi di solito finanzia agli studi per proseguire e verificare ulteriormente l'efficacia della vitamina C. E questo è collegato al benessere della popolazione totale. Nella realizzazione della scrittura di questo libro ovviamente ci sono state delle ricerche. Qual è stata quella più sorprendente? Allora, ce ne sono diversi. Il dato più sorprendente, e si riallaccia a quanto detto pochi secondi fa, riguarda una oscura, quanto criptica, carenza di vitamina C negli ospedali. C'è una abbastanza enigmatica dal mio punto di vista, mio umile punto di vista, tendenza a non misurare la vitamina C nei pazienti ricoverati negli ospedali. Quindi a non avere un'idea chiara, analitica, cioè matematica, di quanto siano in deficit di vitamina C. Questo è un dato assolutamente incredibile, tenendo conto che la vitamina C ha dimostrato di correlarsi al prolungamento dei tempi di ospedalizzazione e a mortalità. Quindi potrebbe fornire un beneficio anche dal punto di vista effettivamente economico alle strutture ospedaliere. Quindi il dato più indicativo epidemiologico, legato a una carenza diffusa di vitamina C tra i pazienti ricoverati in ospedale. All'inizio abbiamo detto che è il primo libro scritto, qual è stata la maggior difficoltà nell'iniziare a scrivere? Scrivere. Io non sono uno scrittore. Mi sono improvvisato scrittore, ho cercato di rapire, rubare qualche tecnica perché quello che avevo da dire era così tanto e non poteva andare perso dal mio punto di vista che doveva essere in qualche modo messo su carta, scritto nero su bianco. Quindi proprio dal punto di vista formale, dal punto di vista sintattico, semantico, imparare le tecniche che potessero esporre nella maniera più chiara, efficace e comprensibile a tutta una tipologia vasta di lettori i concetti predominanti. Proviamo a convincere chi ci sta ascoltando a leggere questo libro brevemente. Allora vi ho lanciato un input prima. C'è una grandissima differenza tra l'uomo e gli animali in rapporto alla vitamina C. Non ve la svelerò, però questa differenza fornisce una prova sostanziale del fatto che l'alimentazione che noi tutti seguiamo oggi, che è già abbastanza carente un po' di vegetali nella maggior parte, potrebbe non essere sufficiente. Io porto delle prove sostanziali a favore di questa tesi. Il fatto di non soddisfare un'alimentazione sufficiente fa sì che il nostro livello di vitamina C si abbassa e questo ci espone a tutta una serie di malattie della più ampia natura, dal diabete all'ipertensione, alle malattie renali, alle malattie epatiche, al cancro, a varie malattie oculari. Quindi prendere consapevolezza di certe dinamiche potrebbe essere utile in un'ottica preventiva quando viviamo in una società e non si fatica a credere, sempre più orientata a un progressivo aumento di incidenza. Vi riporto solo un dato che è del mese scorso, negli under 50, dato di una fonte autorevole, l'incidenza del cancro negli under 50 è aumentata negli ultimi 30 anni del 79%. Questo significa che se abbiamo uno strumento, uno dei tanti, ma è abbastanza importante per creare uno schermo protettivo dal cancro, faccio per dire il cancro per non dire il diabete, è bene che venga utilizzato nella maniera più conforme, soprattutto quando parliamo di una sostanza che, anche se diciamo tra virgolette, combiniamo dei danni con i dosaggi, difficilmente può creare problemi all'organismo. Ritieni che ci possa essere un ulteriore capitolo dedicato a questo argomento con un nuovo libro? Allora, più che un nuovo libro, diciamo delle aggiunte, di rinnovamenti in base alla letteratura scientifica che è in continuo progresso, quindi diciamo degli aggiustamenti, dei perfezionamenti e degli arricchimenti che potranno essere forniti magari fra uno o due anni, a seconda delle nuove ricerche, delle nuove tendenze che verranno sviluppate. Senza dimenticare che il libro sta per essere tradotto, già in fase di traduzione in inglese, per essere diffuso in tutto il mondo. Hai già pensato a cosa scrivere un nuovo argomento in futuro? Sinceramente no, sinceramente no, benché ultimamente si sta sempre più plasmando l'idea che la vitamina C possa essere considerata, qualora utilizzata nella maniera più congrua, un potente farmaco di rianimazione da affiancare a quelli già esistenti per migliorare le prospettive di vita nei pazienti più gravi, ad esempio possono essere i politraumatizzati. Quindi quella potrebbe essere una direzione di ricerca dove giorno per giorno scorgo sempre nuovi elementi di interesse, di approfondimento. Sei ad Acquaglia perché dovrai presentare questo libro al pubblico. Vogliamo dire innanzitutto chi ti ospita? Mi ospita una grandissima amica, nonché sono fiero di questo, mia sostenitrice è l'amica Nunzia Zullo, che è diventata una mia fan. Io sono anche un suo fan per altre motivazioni perché è una donna straordinaria. era in procinto da tempo di organizzare una presentazione in cui la qua vive. Sono felice che venga fatta nel suo locale. I fan invece che ci stanno ascoltando, dove possono seguire l'autore sui social? Ho un profilo Facebook pubblico e anche Instagram. Cerco sempre di proporre del materiale, come ad esempio la diretta Facebook che verrà prodotta stasera. Poi in ogni caso è attivo un tour da maggio, un mese della presentazione, in cui ogni mese cerco di presentare il libro un po' in tutta Italia. Ad esempio la prossima presentazione è fissata a Pescara per il 21 ottobre. In bocca al lupo. Crepi, grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Autore dei sorrisi